Vedemmo questa meravigliosa traviata e poi andammo in camerino a salutare la Maria e la Calla si su una cosa meravigliosa, disse ah chi è questo bel ragazzo, lele, eccetera, ma siete venuti a vedere me, da Roma apposta e poi disse chissà quale altro piccione avete preso con questa fava, ma che meraviglia, bel dominio della lingua, sospettò che non era solo per me, eravate andati per due, avevamo visto anche Italia-Brasile, 3 a 0 per l'Italia ma era un amichevole, non contava niente.